La mattina di Maria. Questa mattina mi sono svegliata presto. Mi sono fatta una bella doccia e ho bevuto una grande tazza di caffè. Poi mi sono vestita con cura. Un abito semplice ma elegante, per fare bella figura. Mi sono lavata i denti e mi sono pettinata. Mi sono anche truccata un po', non troppo. Ho messo nella borsa i documenti e il curriculum, i fazzolettini e il telefono. Prima di uscire mi sono fermata davanti allo specchio. Mi sono guardata negli occhi e mi sono detta, speriamo bene. Non ho preso l'autobus, ho preferito camminare. Ho attraversato il centro e sono andata verso il mare. In perfetto orario sono arrivata davanti al ristorante. Ho fatto un bel respiro e sono entrata per il mio colloquio di lavoro con il signor Arturo, il proprietario. La mattina di Maria. Questa mattina mi sono svegliata presto. Mi sono fatta una bella doccia e ho bevuto una grande tazza di caffè. Poi mi sono vestita con cura. Un abito semplice ma elegante, per fare bella figura. Mi sono lavata i denti e mi sono pettinata. Mi sono anche truccata un po', non troppo. Ho messo nella borsa i documenti e il curriculum, i fazzolettini e il telefono. Prima di uscire mi sono fermata davanti allo specchio. Mi sono guardata negli occhi e mi sono detta, speriamo bene. Non ho preso l'autobus, ho preferito camminare. Ho attraversato il centro e sono andata verso il mare. In perfetto orario sono arrivata davanti al ristorante. Ho fatto un bel respiro e sono entrata per il mio colloquio di lavoro con il signor Arturo, il proprietario. La mattina di Maria. Questa mattina mi sono svegliata presto. Mi sono fatta una bella doccia e ho bevuto una grande tazza di caffè. Poi mi sono vestita con cura. Un abito semplice ma elegante, per fare bella figura. Mi sono lavata i denti e mi sono pettinata. Mi sono anche truccata un po', non troppo. Ho messo nella borsa i documenti e il curriculum, i fazzolettini e il telefono. Prima di uscire mi sono fermata davanti allo specchio. Mi sono guardata negli occhi e mi sono detta, speriamo bene. Non ho preso l'autobus, ho preferito camminare. Ho attraversato il centro e sono andata verso il mare. In perfetto orario sono arrivata davanti al ristorante. Ho fatto un bel respiro e sono entrata per il mio colloquio di lavoro con il signor Arturo, il proprietario.